Quanto guadagnano gli attori di Hollywood? Per attrici e attori di Hollywood, cioè la maggior parte di quelli che lavorano e guadagnano negli Stati Uniti, lo stipendio medio è stato di 27,7 dollari l'ora, cioè poco più di 26 euro. È basso se considerate che attori e attrici non lavorano tutti i giorni durante l'anno. La maggior parte di loro campa attraverso i soldi che gli arrivano dal diritto d'autore. O almeno in passato era così. Se io ho recitato in un determinato film, ogni volta che veniva trasmesso io ci guadagnavo una percentuale. Ma il boom delle piattaforme in streaming e il loro modello di sfruttamento delle serie tv e dei film ha rimpicciolito parecchio questo tipo di introito, lasciando gli attori con i soli guadagni dei nuovi lavori. Quando si parla di grandi attori di Hollywood si tende a pensare ai grandi nomi del cinema con stipendi da calciatori. Ma la maggior parte degli attori che lavorano solo per parti secondari e comparse. Il forte aumento del costo della vita in California, insieme al mancato adeguamento degli stipendi, ha creato una situazione insostenibile che ha portato allo sciopero di cui vi abbiamo parlato nei mesi scorsi. Tra l'altro il mestiere di attore prevede anche lunghi periodi senza paga tra una produzione e l'altra. E in certi casi non possono nemmeno accettare due o più ruoli in contemporanea. Può quindi capitare di apparire in un ruolo marginale per dieci episodi di una stagione lunga tre anni, e nel mentre non poter accettare altre parti in un altro film. Negli Stati Uniti da sempre il mestiere dell'attore è considerato un lavoro stabile e serio. Non una professione stabile, ma una che come altre può fornire una rendita di livello medio-alto per lungo tempo. Tra pubblicità, piccole parti e anche il lavoro di doppiaggio nei videogiochi o nei cartoni animati. Fino a qualche anno fa infatti il diritto d'autore forniva una compensazione agli stipendi degli attori. Perché se una serie veniva rinnovata per altre stagioni o se un film andava bene, era previsto che ne godessero tutti. Ora, invece, per un ruolo medio-piccolo in una serie tv, il diritto d'autore, quindi non lo stipendio, prevede 600-700 dollari l'anno, molto meno dei 20.000-40.000 dollari di alcuni anni fa. La paga per un attore superiore alla media si aggira intorno ai 4.000 dollari a settimana. Quindi quasi 15.000 euro per un mese di riprese. Queste cifre sono tutte da intendersi lorde. Per come è fatto il sistema negli Stati Uniti, le trattenute sono molto alte. Come le commissioni di agenti, manager e avvocati, circa il 35% del totale. A un attore di livello medio, cioè quelli che non compaiono nei titoli di coda, ma che registrano solo 4 o 5 scene durante il film, servono quindi 10 settimane di lavoro in un anno per guadagnare quei 26.000 dollari che servono ad assicurarsi l'assicurazione sanitaria. Una comparsa pagata 27 dollari l'ora deve lavorare quasi 26 settimane l'anno per raggiungere quella cifra. Ecco perché tra le ragioni dello sciopero c'era il diritto d'autore, che li aiuta a campare quando ci sono i periodi morti o in cui lavorano troppo poco. E per gli attori famosi? Due attori famosi, ma non tra i più pagati, come Will Ferrell e Ryan Reynolds, hanno ricevuto 20 milioni di dollari a testa per un film di Natale di Apple TV+, Magia di Natale. Sempre Apple TV+, ha pagato Brad Pitt, un attore di primissimo piano, che tuttavia non è tra i più pagati, 35 milioni di dollari per il film di prossima uscita sulla Formula 1. I più pagati, invece, come Daniel Craig, possono arrivare a guadagnare più di 100 milioni per una coppia di film, come è capitato per i due cena con delitto prodotti da Netflix. Tom Cruise ha avuto dalla Paramount 100 milioni per un solo film, Top Gun Maverick. E Dway Johnson, il più pagato del 2022, ha guadagnato 270 milioni per due film, Jungle Cruise e Red Notice, quest'ultimo di proprietà di Netflix. Solo dieci anni fa l'attore più pagato di Hollywood era Robert Downey Jr. e il suo salario era stato di 75 milioni di dollari per un singolo film, Iron Man 3. Le attrici più pagate, come Sofia Vergara, Scarlett Johansson e Sandra Bullock, tra il 2021 e il 2022 hanno guadagnato rispettivamente 43, 56 e 70 milioni di dollari a film, molto meno delle controparti maschili, per via di quello che viene comunemente chiamato gender pay gap, cioè la tendenza nel mondo del lavoro a pagare meno le donne rispetto agli uomini, per lo stesso ruolo. Nel cinema vengono pagate ancora meno le donne afroamericane e non più giovanissime. E gli attori italiani? Forse la domanda più corretta sarebbe quanto guadagna un attore per un film in Italia, in quanto la nazionalità dell'attore è solo indirettamente legata alla domanda. Inoltre c'è una differenza abissale tra attore protagonista e comparse. Purtroppo nel nostro paese la situazione è tutt'altro che idilliaca. Esistono grandi diversità di trattamento tra un interprete e l'altro. Il primo, probabilmente il più ovvio, è la popolarità dell'interprete in questione. Più l'interprete è famoso, maggiori sono le possibilità che diceva un cachet più alto rispetto alla media. Altre variabili che contribuiscono a tale disparità sono il settore in cui lavora l'interprete, teatro, cinema o televisione, l'età dell'attore o attrice e la sua esperienza, il budget a disposizione del progetto e il tipo di progetto in questione. Per quanto riguarda le cifre, il protagonista di un film italiano arriva anche a guadagnare 200.000 dollari a film. Per quanto riguarda lo stipendio di un attore di teatro, il minimo sindacale è di 45 euro lordi al giorno. Ma anche qui più sei famoso e più alto è il tuo cachet. In Italia un attore di medio spessore, di sitcom, Rai o Mediaset, può percepire fino ad un massimo di 20.000 euro netti al mese o 500 euro a gettone. Questo non significa che tutti gli attori abbiano la stessa situazione economica. Ci sono interpreti che riescono a vivere dignitosamente con il loro stipendio e altri che addirittura fanno fatica a sbarcare il lunario, come si suol dire. Ma voglio sapere voi cosa ne pensate. Fatemelo sapere nei commenti, ditemi la vostra e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciaccheazione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie TV. Al prossimo video!